Ciao a tutti cari amici del nostro canale, oggi siamo qui per parlarvi di una coppia che ha fatto parlare di sé ancora una volta, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dalle ultime storie pubblicate su Instagram ad Oriana sembra che i due siano tornati insieme, scatenando reazioni da parte dei fan che seguono le loro altalene amorose. È sempre affascinante vedere come questa coppia, nota per i suoi alti e bassi, riesca a ritrovarsi. Chi segue da tempo Oriana e Daniele sa che il loro percorso amoroso è stato caratterizzato da separazioni e riconciliazioni, proprio come un tira e molla che tiene tutti con il fiato sospeso. Quest'ultimo ritorno potrebbe essere stato prevedibile considerando la storia passata della coppia, ma l'amore ha le sue strade e forse stanno cercando un equilibrio che li renda felici. Chiediamo il vostro fedele supporto e di condividere il video con amici e parenti. Non riusciamo a tenervi aggiornati quotidianamente perché siamo in viaggio. Vi ringraziamo per seguirci sempre e per la vostra comprensione. Grazie mille per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.